Botteghe, mestieri e innovazioni è il nuovo bando rivolto ai giovani tra i 18 e 35 anni che grazie a un fondo di oltre 2 milioni di euro darà opportunità a 160 giovani di prestare lavoro all'interno di 125 imprese che hanno dato la propria disponibilità. Sei mesi con 600 euro di remunerazione mensile in settori quali l'agroalimentare, la moda, la grande distribuzione organizzata, l'artigianato e la meccanica. Crediamo molto nell'Ampal e in questo percorso che ha intrapreso il governo. Io credo che nell'arco di qualche settimana termineremo le procedure, abbiamo sottoscritto a giugno con il ministro Poletti la convenzione, nei prossimi giorni sottoscriveremo le convenzioni con i quattro presidenti di provincia e da quel momento possiamo dire che i centri per l'impiego avranno una regia regionale. Un ruolo chiave è quello svolto dai centri per l'impiego che hanno monitorato esigenze del mercato del lavoro e domanda di lavoro. Dall'altra la regione mette in pratica la strategia di specializzazione intelligente, quella che richiede abilità specifiche in comparti quasi a rischio estinzione. A partecipare al progetto ha anche l'Agenzia Nazionale del Lavoro che spiega l'importanza dell'integrazione tra la questione nazionale e quella delle singole regioni. È chiaro che la caratteristica in questo momento della collaborazione fra Ampal e Abruzzo è contrassegnata da una visione di disegno complessivo, le misure poste in essere dall'Abruzzo come la loro dote unica. L'idea di raccordarsi fortemente con l'Agenzia consente di avviare una collaborazione che sarà sicuramente fruttuosa.